Voglio dirvi davvero grazie. Sono stato travolto da un'ondata di affetto, di commozione, di emozione che mi ha consolato, mi ha riscaldato. Voglio dirvi grazie, grazie, grazie di cuore. Il nostro rapporto continuerà, continuerà spero a lungo, ma intanto vi porto via questo ricordo bellissimo dell'abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito, di tantissime persone che erano davanti al televisore ieri sera, di tantissimi che in studio mi hanno fisicamente proprio abbracciato e voglio restituire a tutti l'affetto che ho ricevuto, ribadendo ancora una volta, sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi. E poi se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali, vorrei dire che cercheremo mondi inesplorati.